Io credo che questa mattina, non votando l'emendamento che chiedeva di sospendere questa procedura, abbiamo dato tante risposte positive alla città e a Saione in particolare. Poteva subire uno stop la decisione della Giunta Ghinelli di spostare la sede della Polizia Locale di Arezzo nell'immobile di via Fabio Filzi, di proprietà della Curia, nel quartiere di Saione. Un emendamento presentato sia dal consigliere di minoranza Francesco Romizzi, che dal consigliere di maggioranza Federico Scapecchi, Forza Italia, chiedeva sostanzialmente lo stop per riflettere meglio sull'opportunità di questa sede. Messo a votazione, è stato respinto. Nelle prerogative di questo immobile del terreno che insieme all'immobile ci può essere ceduto, c'è anche il fatto che questo può, entro certi limiti, anche crescere di volume e dare una risposta non soltanto alle esigenze di oggi della Polizia Municipale, ma anche quelle che potranno venire in un futuro da una integrazione delle polizie locali, non solo del capoluogo, ma anche dei paesi vicini. Non solo, dal momento che questo lotto guarda caso, confina con una proprietà comunale, che è una scuola e che è bene che rimanga a scuola, comunque si integrano due proprietà. E quindi a questo punto il risultato finale di questa operazione è altamente virtuoso ed anche, come dire, economicamente conveniente per l'amministrazione. Dobbiamo fare un progetto preliminare che sia possibile mettere a gara attraverso la procedura dell'allocazione finanziaria dove dobbiamo trovare un partner che nei tempi che noi abbiamo previsto, con i costi che avremo individuato, possa portare quell'edificio nato per altro motivo a diventare sede della Polizia Municipale. La minoranza chiede però che l'acquisto dell'immobile passi dal Consiglio Comunale. Senza averne fatto nessuna delibera di giunta, nessuna delibera di Consiglio Comunale, la sede della Polizia Municipale sarà quella di via Filzi. Incredibilmente il Sindaco oggi ha ammesso questa cosa. Penso che dal punto di vista formale ci sia qualcosa che non funzioni finora. Manca il passaggio? Secondo noi manca un passaggio al Consiglio perché non c'è stato nessun atto ufficiale con il quale si individua che la sede della Polizia Locale sarà quella di via Filzi. L'acquisto non è nemmeno detto che tale sia perché in realtà l'allocazione finanziaria passi attraverso di un acquisto di terzi che ci daranno in locazione l'immobile fin tanto che riscattato il prezzo non diventa di proprietà comunale. Quindi credo che non si ripasserà nell'immediato dal Consiglio Comunale.